E' proprio la tramita Ah Bacioni Puccino Con lo snack 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 Il piccolo ranking Fatti qua Sit qua Babe Hip 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 Jeg Eccoci,initornati a FUTAL MADO FITIL English sapete oggi che video si farà no siamo tornati con il snack visto che siete così contenti passiamo subito al primo no che facciamo il cazzo che ci pare passiamo prima al terzo ok vai col terzo snack cioccolata de casa alla vaniglia di casa di chi? di casa no di questa nonna qui sopra mi sembra la spugna per lavare la cucina bravo cazzo ma è mia nonna è mia nonna allora è cioccolata de casa nonna cioè questo è l'equivalente a tavoletta di quella nutella metà bianca metà nera da questo cazzo puzza di merda puzza di piedi 3,2,1 vai ma sai che sa le caramelle mu però quelle andate a male ma che sono in consistenza? è un waffle non lo so ma che è un waffle? ma che è un waffle? ma che è un waffle? ma ti passa tanta waffle volute come era è una cosa che avrei evitato volentieri molliccia oleosa è grassosa se potete è una consistenza colorosa è un sapore si però l'angolo è un sapore è un sapore è un sapore è un musquagliato è un musquagliato mi piace scabrusa com'è un musquagliato? la faccia la faccia la faccia passiamo al primo snack che sarà quello della mensa dell'ospedale Don Taro snack simil noodles istantanei crudi non si può pesare 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 osh 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 Don Taro che ruolo una chianta che non posso dire Don Taro dove andiamo stasera? sulla ruona ma che non ci puoi cazzare? ci ho detto faccio prima o poi la ruona c'era per tutti dei noodles crudi in effetti molto speziosi speziosi che speziosi? giochi speziosiii allora il sapore è quello dei noodles la consistenza è quella di un cowl voto non classificato perchè? perchè non sanno cioè fanno schifo basta che giusto che cazzo perchè non sono sufficienti ma proprio in crisi estremi si potrebbero smaggiucchiare sei e mezzo sufficiente cioè rispetto ad altre boiate che abbiamo trangugiato questa era di gran lunga migliore cinque e mezzo no perchè faccio uno stile però perchè sono vecchi sembrava neveggio non so non c'hanno l'altra faccia 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 un tarato però sembra vecchio sai perchè? c'ha un po' di brodo col curry detto questo passiamo al prossimo step che sarebbe io? ma questo è un pandalo proprio pernite capsuni cuscinetti ai cereali ripieni di crema alla fragola ma che suni sti capo? di un puntone che non ci volesse tutti ma che è la fusel ma che è la fusel capsuni sono i sofficini è la fusel ma è la fusel ma questo cos'è ah sarebbe la crema alla fragola cioè ragazzi questo ragazzi è la crema alla fragola ma è vero sapete il cuscinetto è reale la fragola è disegnata quindi chi sa riaccazzare è scialattina ah pensavo come sono? non lo so è messo tra tra le barrette vita snella quelle che fanno una griglia e del cibo per i bonigni e mi c'è la quale stessa pliesman 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 il frana fa ehi ma no se sono sotto busto esatto ma che cazzo dici? con la rubica sotto busto no 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 è sotto busto è sotto busto mamma ma mamma c'è canciavolissimo ha cranciato ha crancato ha crancato non sono male nella fragola c'è anche acidità e sta di sciroppo a manca se mi vuole una sciroppo a vaniglia sciroppo a frafolo no no se non è della scusa in questo momento vedete l'inizio che sta pensando perché l'ha già fatta forse avrei dovuto scegliere un'altra stamattina ragazzi devo vedere la voce però alla fine c'ha un sapore amarostico perché siamo amarostico è difficile 3 come i denti che ho messo 3 perché se va 1 2 e l'altro 3 arriverà di là foto francescano perché faccio cappuccino e roba ste cose veramente fanno schifo non è che sono buoni sei sei ma cosa sta succedendo non lo so 4 e basta 4 e mezzo forse prossimo snack via cereali alla frutta ma chi è questo uno sponge bob rumet il cuore è legno sembra lo spiega di uro l'acquare stai lasciando vai vai che sei cosi l'acquare ora insomma viene da rintraff a fogo se ti mangio ma che cazzo che è ma mettendo così oh che schifo delle due buzze ma che schifo no ho avuto 2 2 1 ci arrivo a te che parlo ogni volta che parlo il respiro sento questo 2 perché 1 potevano essere solo i fagioli azuti voto il 0 no in minimo 1 ok 1 io voto San Gennaro per farmi stare bene perché non so che cazzo abbia mangiato voto 1 2 c'è sempre quel sapore amarostico alla fine amarostico ok passiamo al prossimo eh prima questa è la prossima prossima pertina platano dulces chips di platano dolci ah no 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 questa è banana ah come granciano bello è truciolato un altro po signor nooo che schifo fatti vedere la giocchiazza sono dolciastri però non è quel dolciastro a cui siamo abituati noi noi chi? zucchero diciamo ah zucchero il cantante un dolciastro no no ma un partigiano ecco 13 buone ragioni era più buono il platano era più buono il platano era più buono il platano dell'altra volta queste qua fanno veramente a cagare ma poi ti lascia un taboraccio in bocca dolciastro acqua striscia 4 pillano ritorno si ci lottavanno infatti le manisci qui al momento in mangiare il tatu al stomaco sono sabbiosi guapaa beh Eeeh! Vai! Ma no! Gli hai rimplatanati fuori dalla buca! Il creatore vicino a questi platano ha detto merda siete mentre ritorni! No, fanno scusa! Questo è la legge! L'ho detto con una tristezza! Ma è indimendibile! Tu vedi l'altra volta? No, non lo scrivo pure tu! Questo invece vanno proprio scritto al cesso! Tu sei infatti il cesso e il cesso fa... Vabbè! E nemmeno metti il pagliaccio! Che stai facendo? Cioè sei infilato le dita in buro! Ma che vuoi da bene? Ragazzi! Sono veramente... Ragazzi! Sono veramente fuori! Ma che cazzo è? Ma questo è indigno! È il cibo del nuovo millennio! Ma questo è un'indecenza! Ma si basa la mano! Ehi! Cazzo! Ma sta a me! Che fai spia caos ratti! Cazzo! Ma che fai fai! Uno sono rimasticabili perché sono proprio duri e ti tagli tutta la bocca. Ma penso che i tegliani dovresti mangiare uno alla volta! Due! Alla fine sono farinose. Si sente proprio la farina impastata e basta Non c'è farina in questi casi Un terzo, un dolciastro stranissimo Un dolciastro rancido E quarto Siamo tutti d'accordo che hai rivolto tre? Sì, vai Ma pure due E adesso l'ultimo snack Fish crackers No Con un bel pesciolone sopra Non vorrei fare illusioni ma Che pesciolone è quello? E' solo uno scorfano O un dente Anche da assumire Forse è un dente Un persico Un persico Un bargazio Parolamie Parolamie C'è la pustagliata Cazzo Cazzo Voglio il cibo per il Il cibo per gli acquari Dai, sto per vomitare Ragazzi, no, dammi il senso Capito di magnoca Ma che cazzo è? La magnoca si è Allora, ho già scritto la normativa C'è scritto il pesce Eh, qua Vuoi influire, tecati? No, metto su un'attività di lattezzone dei bambini Ma che significa? Che cazzo? Che cazzo? Dai, con un latte che ci sono dentro Ma, ho visto la scadenza? Non l'ha controllata Hai visto la scadenza? Adesso l'ha controllata Sto a novembre Me lo dirò qua Sono nove cose Buona, ce l'ho diventa Romeo brutto C'è più del sogno A un certo punto Ma se... Prima sono altre Altre delle fatte Ma se ne vengono le sensazioni Gianni, allora Certo, la gula E dentro ha un altro pesce Era meglio il pesce No, è più del chiedi della morte No, è meglio il chiedi della morte Ma se ne è mattuta la burra Ma lascia di Ma vedo Vedo il muscolo Che si contrae Che c'è Sto mangiando pure il dito Che dà più sapore Io mi vedo e mi dono Siamo venuti da un cibo Qua il vento mi curta il profumo nel naso Un tuo profumo del mare Mille fischschrecher suonano Di dal vento E' venuto l'incluso E' un uomo Sono un po' piccante alla fine Però ho pensato fosse roba Che schifo Puzzano di pesce molto Sa di go Di gambero Di smascio Di smascio Di smascio E' un po' di schizza Delle fasce Oh Chi vuole Mi piace Non 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 mi piace Allora Devo mangiare i due insieme No Però non riuscivo a mangiare Perché erano troppo grandi Troppo spessi All'inizio fa schifo Perché metto il dito Lo stiamo Ad arriva sotto Andrò Questo Questa cosa Perché Non esistono Sì Dal odore Dal odore Tu dovresti Già capire qualcosa Quindi Tre Mi sa quando Da stessi Così schifoso Sinceramente Tre Anche Io Perché Veramente Anzi Il sapore Tre L'odore Z Diciamo tre Perché si possono Mangiare Alla fine Sono di cambero Però Ragazzi Tre Anche io Cioè Si possono Mangiare Però L'odore Ha fatto Prima di La propita Ragazzi Come sempre Se anche questo video Vi è piaciuto Iscrivetevi al canale YouTube E te le mi piace Sia su YouTube Che su Facebook O divedetelo Dovomuue Iscrivetevi Nella pagina E commentate Sia su YouTube Che su Facebook Come sempre Un saluto Dall'apostro Francesco Davanti Scusami Saluto dal mostro Francesco Michele Maurizio Giovanni E Giorgio E questo era PUROTO 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 E no Aia PUROTO PUROTO